Musica E' la celebrazione delle sale cinematografiche italiane. L'altro buio in sala racconta delle sale cinematografiche storiche e preziose del nostro paese perché danno la possibilità a film indipendenti che non hanno grandi distribuzioni da esistere. Quindi hanno superato anche il lockdown e questa è veramente una celebrazione. Musica Io credo che sia molto importante avere un film che parla dei cinema, che parla delle sale. Musica E trovo che la chiave che è stata usata da voi.